la categoria minores femminile i punti sono 17 i diritti che devono essere compiuti ma al primo giro è praticamente a vuoto perché per aspettare per assegnare i punti dobbiamo aspettare il prossimo riguardo quindi da 2016 verranno assegnati i primi punti utili per la personale che si fa in ciascuna comunale abbiamo sentito l'attività della campana quindi da adesso, no 16 punti in paglio per le tre di gara attenzione a tre e punti per voi a guarnia con i punti la concorrente numero 90 Rebecca Balagusta e nel quadro con il resto 1 con la concorrente numero 108 qui fa subia una presidia in questa gara la concorrente numero 29 Alessandra Cicchini siamo a meno 15 punti in paglio attenzione a tre e tette guadagno ai punti la concorrente numero 108 qui fa soffia nella 1 supporta a 4 3 veniva guadagno a 1 la concorrente numero 100 e 92 Raventura Cicchini se le insegnare Gabriele trattori ciauderni ricordano che i propri stanno contenendo sul titolo di campione regionale della prova a punti sulla distanza di cinque viva tutti in baglio guadagno ai punti la concorrente numero 40 piuota a Giorgia ci guadagno ai 1 la concorrente numero 40 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.